Francesco Sottile, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuto davvero qui per raccontarci di una giornata, 5 dicembre, giornata mondiale del suolo. Ed è una giornata importante perché non deve passare inosservata. È vero che ci sono tutti i momenti delle giornate a cui fare attenzione, però questa è una giornata che parla di quello che noi abbiamo sotto i piedi, il suolo. E quindi partiamo proprio da questa considerazione, Francesco Sottile. Ricordo che lei è agronomo, docente all'Università di Palermo e membro del board di Slow Food. Che cos'è il suolo? Abbiamo appena detto che l'abbiamo sotto i piedi. In realtà è ciò che ci regge il piedi, che è una visione un po' diversa dello stesso concetto e rende forse meglio il fatto che il suolo è la sorgente della vita. Attraverso il suolo riusciamo a produrre il cibo che ci nutre quotidianamente, il suolo ci regge in piedi, il suolo è praticamente la sorgente di tutti gli esseri viventi che in qualche modo rappresentano la continuità della vita. All'interno del suolo c'è l'acqua, all'interno del suolo ci sono tantissime risorse importantissime che vanno valorizzate, non sfruttate. E attraverso quindi la conservazione del suolo possiamo immaginare una conservazione dell'intero pianeta. Proprio in questi giorni, Francesco Sottile, c'è la COP28 sui cambiamenti climatici da Dubai. Ecco, credo che sia importante anche attraversare questa parola suolo pensando la COP28. Qual è l'eco che arriva a proposito di questa parola? È molto blanda, nel senso che la COP in genere non è mai stata capace di dare, a mio modo di vedere, il giusto valore al suolo. Affronta i temi della crisi climatica, ma continua ad affrontarli senza dare al suolo il giusto ruolo e la giusta importanza. Il suolo è il principale, insieme al mare, il principale regolatore della concentrazione di anidride carbonica che abbiamo in atmosfera. Attraverso il suolo abbiamo la possibilità di sequestrare, immagazzinare anidride carbonica, ma non in un modo passivo, in un modo attivo, perché il carbonio che viene sequestrato ed immagazzinato nel suolo serve a nutrire la fittissima rete di microorganismi che consente di costruire la fertilità. Quindi noi sequestriamo, possiamo sequestrare carbonio dall'atmosfera, conservarlo nel suolo e attraverso questo carbonio alimentare la fertilità. Allora, questo mi sembra uno degli strumenti, dei meccanismi, dei cicli che in modo davvero straordinario possano rappresentare il futuro del pianeta. Allora, che da una conferenza in cui si discute di crisi climatica non arrivino dei segnali forti sul tema della conservazione del suolo, credo che si debba rimanere un po' preoccupati. E' certo che si deve rimanere preoccupati perché basta vedere semplicemente le cifre inerenti al consumo di suolo e questo è veramente qualche cosa che ci fa toccare con mano che bisogna necessariamente fare qualcosa e sicuramente non bastano i contributi che abbiamo sentito nei giorni scorsi per la crisi climatica, di alcune forse 100 milioni di euro per le future vittime della crisi climatica. Ma adesso insieme con Francesco Sottile vorremmo puntare l'attenzione su quello che lei rappresenta, ovvero Slow Food. Senza suolo non c'è sovranità agroalimentare, senza terra non c'è vita. In che modo Slow Food intende essere non solo partecipe, ma parte integrante di questa giornata? Slow Food ha scelto da tantissimi anni di lavorare insieme a tantissimi produttori, migliaia di produttori, decine di migliaia, direi centinaia di migliaia di attivisti in tutto il mondo attraverso un'unica parola che è l'agroecologia. L'agroecologia è quello strumento che oggi ci permette di pensare alla produzione agricola senza limitare gli interventi in tema di giustizia sociale, in termini di giustizia ambientale, di corretto sfruttamento o utilizzo delle risorse, in modo equilibrato secondo una vera capacità di interfacciarsi con le risorse naturali. Noi oggi abbiamo un estremo bisogno di recuperare una relazione con la natura, una relazione con gli ecosistemi. Abbiamo un estremo bisogno di riportare l'attenzione a un equilibrio ecosistemico che non veda al centro l'interesse dell'uomo o l'esclusivo interesse dell'uomo. Allora attraverso tutti gli strumenti che abbiamo sviluppato negli anni, attraverso i presidi Slow Food, attraverso la conoscenza garantita da questo straordinario catalogo che è l'arca del gusto, ma il rapporto con le nostre attività produttive, con i nostri ristoratori, con i mercati, abbiamo sempre messo al centro l'agroecologia, la biodiversità, la conservazione degli ecosistemi e tutto questo parte certamente dal suolo, parte certamente da un modello di sviluppo che veda il suolo al centro di una visione strategica. Francesco Sottile, ma quando noi sentiamo parlare di desertificazione, questo è un dato importante, noi pensiamo subito alle aree del deserto, invece la desertificazione forse è a pochi metri da dove siamo noi. Purtroppo sulla desertificazione camminiamo quotidianamente, nel senso che fino a 30-40 anni fa per desertificazione si intendeva l'avanzata del deserto o l'effetto dell'azione soprattutto in ambienti con climi siccitosi. Oggi quando si parla di desertificazione si parla sostanzialmente di perdita di fertilità e la perdita di fertilità è l'effetto di una dirompente diffusione dell'agricoltura su scala industriale e su modelli industriali attraverso l'applicazione di chimica di sintesi. La chimica di sintesi peggiore è stata proprio applicata nei suoli attraverso l'uso dei fertilizzanti chimici di sintesi, l'uso degli erbicidi che alterano gli equilibri tra micro-organismi nel suolo, alterano la loro funzionalità oltre ad inquinare le falde, rendendo praticamente i suoli poco fertili e questa poco fertilità si è ripercossa evidentemente sulla produttività dei suoli, sulla capacità dei suoli di sostenere la produzione determinando ulteriore accanimento con la chimica di sintesi. Oggi la desertificazione è galoppante, si parla del 70% dei suoli arabili su scala globale sottoposti a processi di forte degradazione e la desertificazione è veramente ciò che dobbiamo temere di più per il futuro del pianeta. E la posizione di Slow Food nei confronti del glifosato qual è? È assolutamente netta e contraria alla sua applicazione in tutti i nostri strumenti che portiamo avanti con i produttori che sono fortemente coinvolti nella nostra visione strategica. Ci può spiegare che cos'è per i nostri ascoltatori il glifosato? Perché questo è un dato molto importante. Il glifosato è una molecola capace di distruggere la flora spontanea, quindi è un diserbante, è quello che comunemente gli agricoltori hanno sempre chiamato un seccatutto, un qualcosa che è in grado di distruggere la flora spontanea permettendo una riduzione dell'uso delle macchine, una riduzione dell'uso delle lavorazioni per la gestione di tutto ciò che spontaneamente cresce nel suolo. Io continuo a chiamarla, come sentite, flora spontanea. Nel mondo dell'agricoltura industriale si chiama malerba, si chiama flora infestante, con un'accezione estremamente negativa. Nella flora spontanea c'è tantissima biodiversità, c'è tantissima biodiversità che è in grado di migliorare il suolo e che è in grado anche di migliorare l'ambiente, la vivibilità anche per gli insetti utili. L'azione devastante del glifosato non è soltanto a carico della flora spontanea, ma poi permane nel suolo, finisce nelle falde e rischia di essere parte di ciò di cui ci nutriamo. L'uso del glifosato è un problema non soltanto per ciò di cui noi ci nutriamo, ma è un problema ambientale. Quindi rifiutare l'idea di consumare cibi che siano stati prodotti attraverso l'uso di questa erbicida, anche attraverso l'uso di questa erbicida, significa agire a favore dell'ambiente, non soltanto della nostra salute. E ci sono relazioni certe tra la salute del suolo, quello delle piante e quindi anche quello delle persone. Grazie davvero Francesco Sottile del Tempo che ci ha dedicato per ricordarci la giornata del 5 dicembre, la giornata dedicata al suolo. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi.